Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Maxal. C'è la pagina politica in apertura, seduta con polemiche del Consiglio regionale all'Aquila, critiche anche per l'assegnazione della delega alla cultura, al consigliere Bracco del Movimento 5 Stelle. Vediamo. Una manovra da vecchia politica, con filate sveltine tanto per gravare ulteriormente sulle casse dei cittadini. È l'inventiva lanciata dalla componente del Movimento 5 Stelle in una seduta consigliare stanca e fin troppo tranquilla, che attendeva le risoluzioni più sentite, quella della power crop e sui punti nascita. 1.800 euro in più di indenità al mese, se fosse passata la modifica all'articolo 14 dei lavori del Consiglio regionale, che prevedeva la sostituzione del Presidente dell'Aggiunta del Regolamento, carica attualmente ricoperta dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Di Pangrazio, senza alcun costo aggiuntivo, con un consigliere già presente in commissione. Nome caldo per l'ambito bonus potrebbe essere il consigliere di Forza Italia, Iampieri, che, guarda caso, il 17 marzo presentò la modifica al regolamento, mentre in Assemblea la componente forzista si è astenuta in massa al momento del voto. Modifica che è stata solo rinviata, vista l'assenza in aula dei diversi consiglieri di maggioranza, che non ha permesso di superare la soglia di presenze richieste. Ma il vero climax della seduta si è raggiunto al momento dell'interpellanza presentata, e poi ritirata in un solo attimo dal consigliere di Forza Italia, Paolo Gatti, su quelle che sono state le motivazioni che hanno indotto il Presidente della Giunta, D'Alfonso, a concedere le deleghe alla cultura al consigliere Bracco, circostanza che D'Alfonso non ha gradito, visto che il dibattito si sarebbe spostato in commissione, e che ha portato il Presidente a riproporre ai consiglieri di opposizione nuove deleghe. Una proposta, certo, ma ancora di più l'ennesima provocazione, considerato che tra le serie deleghe citate da D'Alfonso, ci sono due temi caldi e che rischiano di rappresentare il lato più scuro della storia della politica della Regione. Come il bilancio del terremoto dell'Aquila, per il quale rimbalzò il nome dell'ex Presidente Chiodi, e sulla vicenda della piattaforma digitale Dedalus, mai avviata e che ha gravato nelle casse regionali per oltre 5 milioni. Piattaforma che presto entrerà a pieno regime, come ha espresso il Presidente, ma senza alcun costo aggiunto, con l'ARIT, la società che l'ha realizzata, che si farà carico dei costi, evitando un ulterior spreco di risorse, fondamentali in questo periodo per far fronte al dissesto idrogeologico. La Regione ha pronti infatti 120 milioni per far fronte all'emergenza di queste ore. Non ancora tutti disponibili, contrariamente a come è stato spesso dichiarato in Consiglio, visto che i 26 milioni del programma POR saranno disponibili nelle competenze degli anni 2014-2020. Nella seduta di sabato 21 marzo scorso, l'Aggiunta regionale ha approvato su proposta dell'assessore alle politiche agricole di Nopè per la delibera che integra le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dei programmi di ricerca dei tre centri regionali Crab, Cotire e Crivea, già recepiti con delibera 598 dello scorso anno. Il provvedimento prevede la concessione di un finanziamento pubblico di altri 600 mila euro per attività non economiche che si aggiungono ai 520 mila già concessi. L'assessore Pepe ha sottolineato che l'Aggiunta sta lavorando alla costituzione di un unico organismo di ricerca regionale e il costante impegno dell'esecutivo per permettere ai tre centri di attuare i programmi in corso. A Montesilvano il Movimento 5 Stelle critica l'operato del sindaco Maragno è presente a un dossier sulla gestione della farmacia comunale. Perdite per centinaia di migliaia di euro, affitto alto e posizione poco strategica, è impietoso il quadro dell'unica farmacia comunale di Montesilvano che emerge dallo studio delle carte in possesso sia dell'amministrazione che dell'opposizione sulla farmacia istituita nel 2005 che potrebbe gestire in maniera positiva i farmaci da dislocare sul territorio. Per isolarla servirebbe un milione di euro. La denuncia è del Movimento 5 Stelle con il presidente della Commissione di Vigilanza in Consiglio Comunale, Manuel Anelli. In pratica i conti della serva che ha fatto il sindaco sulla farmacia comunale ne abbiamo risposto con un dossier sulla stessa farmacia per dire che i conti sono sbagliati. In pratica i conti che ci hanno presentato come comune sono probabilmente viziati da una volontà già espressa di esternalizzare il servizio di farmacia comunale. Detto questo ne abbiamo fatto un dossier dove andiamo a parlare di tutte le problematiche a partire dai dipendenti che verranno assimilati dal privato ma molto probabilmente verranno anch'essi licenziati. Quindi vogliamo anticipare i tempi per evitare un qualche problema futuro nel dire invece ad oggi attenzione perché la farmacia comunale è già sopra organico il privato cosa farà prima di tutto per ottimizzare il bilancio andrà a licenziare quelli che sono dipendenti in esubero. Detto questo noi continuiamo con una localizzazione sbagliata ad oggi della farmacia comunale perché posta in una zona dove la stessa diciamo non crea utili al comune. Oltre a questo andiamo a parlare invece di quello che sono gli affitti altissimi della stessa farmacia noi andiamo a pagare 3.000 euro al mese il comune di Montesilvano quindi paga 36.000 euro l'anno 36.000 euro che non trova invece per aiutare i senza tetto, i disabili nei lavori socialmente utili ma li va a spendere per la farmacia comunale in una zona in cui se tutto ci va bene riusciremo anche se tutto ci va male a pagare 1.000-1.500 euro al mese per lo stesso affitto. Quindi noi ci chiediamo come mai il comune va a pagare 3.000 euro al mese in quella zona e cosa farà il privato appena la prenderà la sposterà. Quindi diciamo tutte queste scelte tutte queste situazioni perché il comune non è in grado di farlo ma deve affidarsi allo stesso privato per fare un lavoro di questo tipo? Il Movimento 5 Stelle chiede dunque al sindaco di presentare un piano industriale di rilancio della farmacia comunale che è e resta, dice Anelli un asset strategico della città di Montesilvano. In più ne abbiamo proposto un'alternativa diciamo che è univoca è quella di spostare nei pressi del nuovo distretto sanitario di base che dovrà aprire nel corso di questo 2015 grazie al quale Pettinari invece noi stiamo cercando di fare un'interrogazione al governatore della regione Abruzzo per capire quando aprirà lo stesso distretto sanitario però anzitempo diciamo comunque spostiamola lì uno sguardo al futuro apriranno anche le UCP che sono i centri di cure primarie dove saranno H24 e N20 di base e con la ricetta rossa diciamo il flusso il numero dei contribuenti che andano lì all'interno della farmacia a prendere i farmaci diciamo notevolmente si aumenterà quindi grazie a questo ne andremo a contrastare anche diciamo il minor fatturato la gestione sbagliata della farmacia comunale ad oggi. Sono stati rinviati a data da destinarsi a causa delle avverse condizioni meteorologiche i lavori previsti per domani di collegamento della condotta di bypass realizzata in queste ultime settimane in località Torre Marino di Lanciano lo rende noto l'ente gestore del servizio idrico la Sasi non vi sarà quindi sospensione della fornitura idrica come invece precedentemente annunciato nei comuni di Lanciano Ortona Fossacesia Frisa Mozzagrogna Rocca San Giovanni San Vito Chietino Santa Maria in Baro e Treglio. A Pescara arriva il camper dei diritti della CGL per la proposta di legge popolare sugli appalti sosterà davanti al cup dell'ospedale civico per la raccolta delle firme. Alessandra Di Simone il segretario a Filcams CGL Pescara annuncia l'arrivo in città del camper dei diritti che sosterà davanti al cup dell'ospedale Santo Spirito perché proprio in quella struttura lavorano molti in condizioni di appalto. Nel camper si raccoglieranno le firme per la proposta di legge popolare sugli appalti. Abbiamo l'opportunità di far passare il camper dei diritti nella città di Pescara e raccogliere le firme appunto perché abbiamo l'obiettivo di proporre una legge che possa tutelare i lavoratori e i lavoratrici in appalto che oggi dopo i disoccupati rappresentano il lavoro povero quello che noi definiamo il lavoro povero e meno tutelato. Abbiamo scelto di essere presenti davanti al cup dell'ospedale civile di Pescara perché lo riteniamo il luogo simbolo nel quale ci sono tantissimi lavoratori in appalto dalle pulizie, la mensa, le cooperative sociali, i portierati insomma tutte quelle che sono i settori terzializzati e quindi in appalto che riguardano lavoratori e lavoratrici che hanno seppur a volte contratti a tempo indeterminato hanno di volta in volta una difficoltà a mantenere nei cambi di appalto l'occupazione e soprattutto il salario cosa che sta accadendo purtroppo in questi giorni anche nell'appalto delle pulizie noi siamo in discussione con l'impresa abbiamo fatto il cambio di appalto a novembre e abbiamo viste modificate purtroppo le condizioni di lavoro quindi gli orari di lavoro per cui la nuova organizzazione di vita che ogni lavoratrice in appalto deve ogni volta che cambia l'appalto rimodulare in base alle esigenze ovviamente del committente dell'organizzazione del lavoro che riguardano l'azienda quindi noi riteniamo che siano lavoratori poco tutelati per questo la CGL sta facendo una grande campagna nazionale perché chiediamo appunto il ripristino della responsabilità solidaria del committente chiediamo la garanzia occupazionale nei cambi di appalto e chiediamo soprattutto la gestione delle appalte con la massima trasparenza e che non ci siano più appalti al massimo ribasso perché poi è questo in realtà il vero problema ovviamente che si riversa sui lavoratori che lavorano in questi settori la RSA FIOM della Sevel protesterà domani disertando la mensa e mangiando panino e mortadella l'iniziativa è legata alla festa che Sevel ha previsto per la produzione del Ducato arrivata al numero 5 milioni di pezzi omaggiando i lavoratori con porchetta e torta il delegato FIOM scrive in una nota dell'RSA a noi porchetta e torta mentre i capi e i dirigenti si elargiscono premi produttivi tra i 1.500 e i 3.000 euro FIOM ricorda l'azienda e i sacrifici di tanti operai che hanno visto sfilare i 5 milioni di veicoli uno ad uno e non hanno mai ottenuto un centesimo in Germania invece gli operai metalmeccanici ricorda l'RSA della FIOM prendono 6.000 euro di bonus quasi ogni anno a noi porchetta dopo il terzo risultato positivo conseguito lo scorso anno con 228.000 veicoli prodotti allora conclude l'RSA FIOM meglio pane e mortadella con dignità e torniamo a parlare del Vinitaly con il bilancio dell'ultimo giorno l'Enoteca regionale ha proposto ai visitatori e agli esperti 450 etichette dell'Abruzzo del vino ascoltiamo il bilancio dei sommelier le eccellenze d'Abruzzo conquistano nuovi appassionati tra i quali anche il ministro del lavoro Poletti il viceministro e il sottosegretario all'agricoltura Olivero e Castiglione visitando gli stand delle 80 aziende vinicole presenti alla rassegna di Verona il viceministro Olivero è entrato nel merito del settore indicando in qualità e specificità gli elementi necessari per il successo del comparto vinicolo italiano nel mondo molti turisti, ha detto Olivero, al Vinitaly verranno quest'anno dal mondo per visitare l'Italia anche per la straordinaria ricchezza di biodiversità e di produzione di eccellenza che l'Italia può vantare e il Vinitaly è un importante biglietto da visita per la qualità dell'innovazione italiana di valore della promozione di risultati e degli apprezzamenti della produzione abruzzese in ambito internazionale si è parlato anche in occasione del premio giornalistico Awards of Wine la cui terza edizione si celebrerà in autunno con l'auspicio degli organizzatori di allargare il premio anche al cibo perché l'Abruzzo è una regione ricca di specialità gastronomiche importante è fare promozione che la regione Abruzzo sostiene con fondi di bilancio propri e con il PSR misura 133 ha detto l'assessore Dino Pepe annunciando che dopo il Vinitaly i produttori abruzzesi si sposteranno al VinExpo di Bordeaux nel padiglione 12 dove è stato allestito lo stand dell'Abruzzo sono stati registrati molti passaggi sia di operatori del settore sia di semplici appassionati l'Abruzzo si sta preparando anche all'Expo appuntamento fondamentale ha aggiunto l'assessore Pepe dove saremo protagonisti anche grazie a Casa Abruzzo lo spazio è in zona Brera dove proporremo le nostre specificità partendo ovviamente da Montepulciano d'Abruzzo ciò che è importante nella promozione ha concluso l'assessore Pepe è ovviamente la qualità assieme all'identità che sono elementi cardine del nostro marketing territoriale l'assessore regionale all'agricoltura ha infine ringraziato tutta la comunità enoica regionale fatta da agricoltori, imprese, enologi, agronomi, consorsi poiché hanno dato l'occasione di comunicare l'Abruzzo al Vinitaly 450 sono le etichette che l'enoteca regionale d'Abruzzo propone agli utenti e visitatori di Vinitaly 49esima edizione, Gaudenzio D'Angelo presidente dei Sommigli Abruzzesi ancora un anno qui a proporre e a promuovere il nostro vino ancora un anno sì, sono 27 anni che AIS Abruzzo collabora con la regione Abruzzo per l'organizzazione di Vinitaly l'abbiamo costruito quasi insieme abbiamo portato sempre la nostra professionalità il nostro servizio ma principalmente le nostre idee nella realizzazione di tante cose quindi abbiamo creato questo bel gruppo di lavoro la cosa interessante quindi praticamente si viaggia veramente bene 450 etichette, il numero cresce di anno in anno giustamente le aziende abruzzesi crescono l'enoteca è il punto di riferimento per quello che riguarda la prima degustazione il primo approccio al vino d'Abruzzo quindi è un elemento importante proprio per questo motivo perché l'operatore, il turista, il visitatore chiamiamolo come vogliamo passa in enoteca per avere un'idea di quello che è il territorio quindi ha le possibilità di farsi i suoi confronti di assaggiare diverse tipologie in contemporanea insomma quindi avere un quadro della nostra regione e l'enoteca regionale come possiamo vedere praticamente è sempre overbooking è sempre piena perché appunto c'è questo grande movimento cosa interessante è che il consumatore che praticamente 27 anni fa non ci conosceva poi ci ha conosciuto come regione adesso piano piano è cresciuto un periodo di tempo chiedeva solo Montepulciano oggi il grande Montepulciano d'Abruzzo che è praticamente il traino l'elemento forza della nostra produzione si è portato dietro tutto un po' il territorio e oggi il consumatore viene in Abruzzo e chiede anche di Trebbiano chiede anche di Coccciolo chiede anche di Pecorino di Passerina gli spumanti addirittura quindi questa cosa che per noi è una novità però il mondo del consumo si sta spostando verso la bollicina e come regione Abruzzo facciamo bellissima figura anche con le nostre bollicine diciamo quindi questo è un po' lo specchio di cos'è l'enoteca regionale all'interno di Vinitaly Ed ora la pagina del calcio Serie B la Virtus Lanciano si prepara allo scontro diretto con l'Entella per ipotecare la salvezza Mister Daversa dice voglia una squadra affamata di punti Virtus contro Virtus nella marcia di avvicinamento dei rossoneri alla fatidica quota salvezza e poi a seconda degli eventi alzare la sticella delle ambizioni mai sopite da una tifoseria che sogna un finale di stagione arrembante il Lanciano ha passato ben 21 giornate su 32 in piena zona playoff ed è per questo che in molti non si rassegnano al solo raggiungimento della permanenza per il quarto anno di fila in Serie B nonostante qualche passo falso di troppo nel girone di ritorno di contro squadra e allenatore continuano a guardarsi alle spalle col mirino puntato all'obiettivo chiesto dalla società salvezza tranquilla e campionato dignituale con quei 6-7 punti che mancano all'appello da conquistare in tutta fretta poi si vedrà come ripetuto in continuazione dai protagonisti rossonero reduci dal passo falso di Vercelli dopo 4 risultati utili di fila decisivo a tal proposito il quasi scontro diretto con Lentella per il quale non sono contemplate le mezze misure mister D'Aversa è una squadra ripeto che nel mercato di gennaio ha preso giocatori come Masucci Sforzini, Cutolo e Ligi quindi è una squadra potenzialmente una società forte a livello economico però ripeto abbiamo dimostrato anche con Lavellino una squadra forte sulla carta ma anche altre partite dove possiamo mettere in difficoltà comunque però ripeto è una partita da vincere a tutti i costi ma senza fare l'errore che magari per vincere la partita magari facciamo l'errore peggiore dobbiamo fare risultato è chiaro che faremo di tutto per vincere la partita al biondi la Virtus ha raccolto 26 punti in 7 vittorie 6 pareggi e 3 sconfitte con 17 segni X nessuna squadra di Serie B ha accusato tanta pareggite utile quantomeno ad ipotecare il discorso salvezza contro i Liguri una delle squadre che in trasferta ha vinto solo due volte l'obiettivo sarà quello di ritrovare la mentalità affamata di punti messa in campo contro Lavellino D'Aversa ad inizio settimana ha tenuto a rapporto i suoi chiedendo proprio di dare fondo a queste qualità cancellandolo paga prestazione del Piola Amenta ha toccato duro la caviglia sabato scorso e sulla via del recupero anche Ferrario tornerà tra i convocati reduce da fastidiosi problemi ad un polpaccio squalificato Bacinovic rientrerà a Vastola Ancora Serie B il Pescara parte in anticipo per la Spezia sabato si gioca la delicata sfida playoff Marco Baroni non esclude nulla persino che il Pescara possa lottare per la promozione diretta Il Pescara partirà in anticipo già domani per la trasferta di sabato alla Spezia un vero scontro diretto per i playoff i Biancazzurri si alleneranno venerdì in Liguria Assenti i centrocampisti Biarnason e Memusha impegnati rispettivamente con la nazionale di Islanda e di Albania per le qualificazioni europee a rischio la presenza di Rossi e anche di Politano ma rientrano dalla squalifica sia Zampano che Gessa e tornerà disponibile anche Selasi dopo l'imprevisto varicella I Biancazzurri sono settimi in classifica in serie positiva da sei partite ma se è vero che il Carpi ormai con un piede e mezzo in Serie A il Pescara potrebbe ipoteticamente attaccare il secondo posto per la promozione diretta il tecnico Marco Baroni non lo dice ma fa capire che la squadra è pronta a qualunque sfida Sono dieci partite in cui come sempre in questo campionato è tutto aperto credo forse solo il primo posto perché mi sembra impossibile che il Carpi possa lasciare qualcosa per strada poi tutti sia dietro che davanti è tutto aperto però è normale, fa parte di questo campionato che è combattuto non ci sono partite facili, non ci sono partite vinte il Pescara punta al secondo posto mi pare di capire il Pescara punta a far bene io l'ho già ripetuto, i proclami con i proclami, l'ho detto ieri in Italia solo le elezioni si possono vincere però tu è tutto aperto quindi significa che il Pescara punta al secondo posto è tutto aperto ma io vedo che o perlomeno io credo che attraverso solo il lavoro ve lo ripeto parlare poco, lavorare tanto stare a testa bassa e cercare di far punti questa è l'unica cosa che conta poi tutto il resto da parte mia non lo sentirete mai perché gli obiettivi si raggiungano solo con il lavoro non parlando questa è la realtà era questo l'ultimo servizio scaletta per questa edizione del Tg Max vi ricordo che Tg, servizi e programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it ci trovate anche sul nostro canale YouTube ai profili ufficiali dei social network Twitter e Facebook grazie per l'attenzione arrivederci grazie per la visione